11 arresti, di cui 9 con reclusione in carcere e 2 divieti di dimora nella provincia di Pesaro Urbino, più altre 6 denunce. Questi i numeri dell'operazione denominata Affari di Famiglia che ha consentito la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Pesaro Urbino di sgominare una banda di trafficanti di cocaina con centro operativo a Marotta e con base d'approvvigionamento a torre annunziata nella provincia napoletana. L'indagine scaturita con arresti e sequestri di stupefacente a fine 2022 ha consentito di ricostruire ruoli e condotte criminali di ben 17 soggetti gravemente indiziati di plurime condotte di detenzione spaccio di enormi quantitativi di cocaina nella provincia pesarese. Un traffico che aveva a Marotta un centro operativo coordinato da pregiudicati campani che si approvvigionavano da torre annunziata per poi rifornire acquirenti di Pesaro, Fano, Marotta, San Costanzo, Acqualagna e Fossombrone. Un giro d'affare gestito in maniera imprenditoriale e quasi monopolistica sul territorio capace di rifornire alla provincia di mezzo chilo di cocaina ogni due settimane. Le indagini hanno documentato come il gruppo di trafficanti e spacciatori fosse gestito da un pregiudicato napoletano detenuto in carcere per reati di droga ma in grado di veicolare le proprie direttive anche da dietro alle sbarre. Si serviva infatti della propria compagna e di altri parenti i quali, avvalendosi a loro volta di altri personaggi, avevano realizzato una vera e propria azienda a conduzione familiare che coordinava lo spaccio e gestiva i profitti. Gli indagati addirittura utilizzavano i propri figli bambini per eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine, occultando cocaina anche negli effetti personali dei minori che viaggiavano in auto con i loro genitori durante numerose trasferte di spaccio. È stato anche documentato che i minori assistevano sistematicamente in casa alle operazioni di taglio e frazionamento degli stupefacenti. Un traffico ulteriormente perfezionato dall'utilizzo di schede telefoniche e veicoli intestati a prestanome. Oltre agli arresti sono stati sequestrati anche un'autovettura e una motocicletta utilizzata per lo spaccio e 81 mila euro riconducibili all'attività criminale. I nove reclusi in carcere sono ora attualmente suddivisi fra le case circondariali di Pesaro e di Napoli Poggio Reale in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà dinanzi al Jeep nei prossimi giorni.